mette la palla al centro ed è proprio un autogol va direttamente in area è arrivata la rete che consente di riacciuffare la parità avanza con il pallone c'è il pallone del possibile vantaggio ma che gol ha fatto non c'è appena e c'è il gol ancora lui doppietta personale cerca il corridoio palla filtrante molto interessante qui ed ecco il gol che con ogni prova di tacchiù del match grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti